Allora, perché non mi dice qualcosa di lei? Dov'è il resto? Avevi detto un milione e mezzo! Ha una famiglia? Eva? A Eva serve una vita normale. Noi siamo una famiglia! Tra un mese sarà tutto passato. Quante volte deve dirlo, non c'entro niente. Io avrei voluto creare una famiglia con te! Deve venire con me. Vorrei sapere se sono in a testo. Non deve lasciare la città. Tutti per uno e uno per tutti. Alla fine troverò qualcosa che ti ha sfuggito. Quelli come te si perdono sempre qualcosa. Non dobbiamo parlare. Potrà dire quello che vuole quando si sentirà pronto.